La sera prima del fatale giorno, Pantozzi e Filini fecero un miserabile, disperato tentativo. Pronto ragioniere? Ma veramente mi vorrei ritirare, sa. Ma vuole andare al concerto? No, al concerto no. E allora facciamo una prova, le mostro come si fa. Sì. Allora, pronto? Sono il dottor Svassberg. Chiamo a nome dei ragionieri Filini e Pantozzi. Loro non possono venire al concerto di domani perché hanno una grave malattia infettiva e non posso assumermi responsabilità alcuna. Grazie. Arrivederci. Ha visto? Facilissimo. Ah sì, però lei ha fatto senza numeri. Pantozzi, vuole andare al concerto? No. Allora, camuffiamo la voce. Camuffiamo. Molletta. Molletta. Ecco. Patata. Patata. Apra. Apra. Molto bene. Imbuto. Lo regga. Lo reggo. Asciuga mano. Oh, ecco. Respira. Molto bene. Oh, lo faccio adesso così. Non riesco a capirla. Vuole che facci la cento svedese? Lo sa fare? Beh, sì, ma... E allora lo facci? Lo facci. Pronto? Sì. E' libero? Ascusa. Sono? Vado, si è lento. Accento svedese. Adesso dobbiamo andare al concerto. No. Il concerto no. Vado, 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 vado. Vado, 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 vado. Chidé. Baccio. I como. Vado, vado, vado. 늘. Vado, vado, vado. Grazie a tutti.